ciao ragazzi questo che ad un primo sguardo potrebbe sembrare un normalissimo binocolo in realtà molto più di questo si tratta infatti del primo binocolo al mondo con intelligenza artificiale integrata in che modo funziona beh ora ve lo spiego subito lui è la caso simor 200 e se volete acquistarlo lo trovate in offerta al suo prezzo più basso nel mio cane telegram primo link qui sotto in descrizione video entrate e cercate il suo prezzo base di listino si aggira attorno ai 250 euro ma ora veniamo a lui perché è una chicca tecnologica davvero super interessante di base si presenta né più nemmeno come un classico binocolo di quelli che possiamo utilizzare per per spiare vicini cosa sto dicendo per il campeggio per vedere un po gli animali di sera o magari durante un'escursione insomma tanti tipi di utilizzi diversi abbiamo tutti i tasti retro illuminati molto bello l'effetto abbiamo la lente principale con la regolazione della messa a fuoco la seconda invece è la lente per la visuale ad infrarossi classica alimentato da una batteria removibile sostituibile da 3.250 mAh e nella sua confezione ne troviamo ben due la ricarica invece avviene comodamente tramite un connettore usb type c e c'è anche l'ingresso per micro sd tramite cui potremo registrare video e salvare foto comodamente sulla memoria questa è la confezione e la borsa che vi arriverà a casa qui abbiamo il binocolo qui abbiamo la seconda batteria e alcuni accessori come il cavo di ricarica una tracolla e manuale di istruzioni accendiamolo si tratta infatti di un binocolo elettronico digitale che ci permette tutta una serie di regolazioni a partire dalla risoluzione video 4k quindi davvero ottima durata della cattura hotspot wifi in quanto è dotato anche di un'applicazione che vedremo tra un attimo audio luminosità tempo di spengimento automatico e tutto il resto c'è anche la possibilità di avere una bussola direttamente sul display e la livella di base troviamo uno zoom 3x che può essere aumentato digitalmente fino al 16 per e tramite questo tastino possiamo effettuare foto e registrare video che come vi ho detto poco fa verranno poi salvate sulla micro sd questo è qualche esempio della qualità di questo binocolo traete voi le conclusioni invece tenendo premuto il tasto mod passiamo alla visuale ad infrarossi notturna questa invece è la sua applicazione che ci permette di accedere in remoto utilizzando la wifi al dispositivo e poter quindi tra l'altro è presente anche un aggiornamento software che possiamo effettuare subito e tramite l'app possiamo scattare foto e registrare video anche a distanza di 10 15 20 metri dal binocolo una bella chicca ok fino ad ora vi ho fatto vedere è un binocolo digitale elettronico con qualche chicca smart ma il pezzo forte deve ancora arrivare infatti come vi ho accennato ad inizio video lui è dotato di un'intelligenza artificiale integrata che entra in funzione al calare della notte infatti in condizioni di scarsissima luminosità o addirittura in assenza totale di illuminazione naturale o artificiale questo binocolo è in grado di colorare le nostre immagini o meglio è in grado di leggere quello che sta vedendo è dare un colore in base a al funzionamento della sua via integrata devo dire davvero molto realistico ovviamente in queste condizioni la qualità di foto e video è inferiore rispetto alle possibilità offerte magari in piena mattinata con luce solare però secondo me i risultati che si riescono a ottenere grazie a questa iai lo state vedendo anche voi sono davvero da lasciare senza parole ovviamente possibile switchare e utilizzare in qualsiasi momento la classica visione notturna di infrarossi provate ad immaginare se questa tecnologia venisse applicata ad esempio anche sulle auto con la possibilità di visualizzare sui display della nostra automobile anche quello che abbiamo davanti a noi in condizioni appunto di scarsissima luminosità ambientale si potrebbero secondo me evitare davvero molti incidenti insomma ragazzi io non sono un esperto di prodotti di questo tipo quindi non ho modo di utilizzarlo al suo massimo potenziale se avete qualche idea magari suggeritemelo con un commento e potrei farne ulteriori video però trovo che questa tecnologia sia davvero molto molto interessante secondo me l'unico difetto di questo prodotto è che lo zoom digitale a 16x sgrana un po per il resto permette una visione chiara e limpida fino ai mille metri di distanza che non è niente male ora ragazzi voi cosa ne pensate di questo binocolo con intelligenza artificiale integrata trovate che sia un prodotto interessante oppure no fatemelo sapere lasciando un bel commento vi ricordo inoltre che se vi interessa acquistarlo lo trovate in offerta al suo prezzo più basso nel mio canale telegram tech besties linkato qui sotto in descrizione video con il nome a caso simur 200 bene dire che questo è tutto amici mi raccomando se volete supportarmi lasciatemi un like una condivisione iscrivetevi al canale io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video sempre come vogliate per scoprire insieme altre diavolerie tecnologiche come questa alla prossima ciao ragazzi iscriviti al canale